Qui ci troviamo in Viale Bovio, voi sapete che ci sono due mobili di proprietà, Viale Bovio e Via Raffaello, purtroppo li vedete alle mie spalle abbandonati, non c'è più nessuno, sono palazzi anche fatiscenti e magari prima o poi perderanno tanto valore. Ecco, io ho visionato e condiviso un progetto di ristrutturazione e valorizzazione di questo patrimonio pubblico fatto dal dirigente al patrimonio della Regione Abruzzo, dall'ex dirigente al patrimonio, che prevede la ristrutturazione, la valorizzazione, arrivare a una metro quadratura di 5.800 metri quadri e realizzare qui la vera sede unica della Regione Abruzzo su Pescara. Mentre, nel mentre quindi si faceva questa proposta, che purtroppo non è stata accolta dall'organo di governo di centrodestra della Regione Abruzzo, la Regione Abruzzo sceglie di andare sul mercato e di reperire degli immobili, sempre per la sede unica della Regione, dal privato. Io sono contrario a questa operazione perché il pubblico è sicuramente di interesse pubblico e di interesse generale, anche perché sul privato si vuole prendere in affitto per sei anni, con prorogabili ad ulteriori sei anni, con eventuale opzione di acquisto. Quest'operazione potrebbe costare tante decine e decine di milioni di euro e non converire rispetto a valorizzare l'esistente. Tutto ciò si colloca in un contesto ancora più nebuloso, io direi, perché ricorderete che diversi anni fa la Regione stava optando per prendere in affitto la City, la cosiddetta City. Bene, quell'operazione non è stata conclusa, è stata solo sospesa, è rimasta a piedi, quindi aperta, e si sta andando sul mercato quindi a reperire una procedura simile e parallela. E quindi ci si potrebbe anche come ente regionale esporre a future richieste di risarcimento danni, perché le procedure amministrati vanno chiuse. Anche il dirigente regionale chiedeva di revocare la procedura alla City prima di andare sul mercato. Allora io che cosa chiedo? Chiedo all'assessore regionale a patrimonio, che è l'Iris, di bloccare subito l'avviso, perché si può ancora fare, per il reperimento degli immobili sul mercato e sposare questo progetto di rivalorizzazione, ristrutturazione delle sedi di Via Lebovio e Via Raffaello, facendo risparmiare tanti soldi al pubblico e avendo una sede della Regione in strutture già di proprietà pubblica. Mi auguro che lo farà a breve e noi ci batteremo con tutte le nostre forze, sempre a tutela dell'interesse pubblico e delle casse dei cittadini abruzzesi.